ben ritrovati a quarta di copertina qui su obiettivo news oggi parleremo di fotografia lo faremo con un ospite eccezionale enzo isaia è venuto a trovarci dall'astigiano anche se di origine torinese parleremo della sua carriera delle sue esperienze delle sue immagini ci guiderà all'interno di una carrellata finale di scatti veramente eccezionale e quindi noi intanto diamo il benvenuto a enzo isaia e poi io ricordo i nostri telespettatori che è possibile venire qui a quarta di copertina assolutamente in sicurezza nel rispetto delle normative covid scrivendo a debora bocchiardo chiocciola gmail.com iniziamo il nostro viaggio di oggi all'interno della fotografia perché il monitor tra me l'ospite è particolarmente grande perché le immagini lo meritano siamo immobilizzati anche nei movimenti proprio per motivi registici cominciamo a parlare di una grande passione enzo quella della della fotografia che ti accompagna da quasi 60 anni da quando eri praticamente ventenne 80 anni splendidamente portati come potete vedere tra qualche giorno con più gli 80 anni tra qualche giorno ecco tra noi scorrono delle immagini voi potete osservarle poi alla fine il nostro ospite farà un approfondimento su una carrellata di immagini appositamente scelte quindi intanto gustiamoci queste queste immagini mentre chiacchieriamo e poi entreremo un po più nel merito parliamo di come nasce questa tua passione per la fotografia anche perché molti telespettatori che ci seguono sicuramente avranno la curiosità o magari hanno già una passione che vogliono far crescere quindi mettiti anche nell'ottica di chi magari vorrebbe avvicinarsi a questo tipo di vita di attività grazie innanzitutto ringrazio per la vostra ospitalità gentilissima la partenza venne nei primi degli anni sessanta quando frequentavo la facoltà di architettura a torino mio padre pilota viaggiava per l'europa sovente appassionato di fotografia un giorno mi portò un libro da parigi immagini alla diretta di henry cartier bresson con la copertina di matisse era un'edizione molto particolare lo sfogliai una volta due volte cento volte forse anche di più di giorno e di notte e poi decisi domani da domani faccio il fotografo quanti anni avevi avevo circa vent'anni e mio padre mi aiutò all'inizio mia madre non avendo girato il mondo all'epoca c'era l'inizio l'esplosione della fotografia mia madre invece desiderava che mi laureassi come gli altri fratelli che infatti nonostante che poi dopo mi fossi sposato con due figli lei per qualche anno mi iscrisse all'università sperando che mi laureassi cosa che poi non ho fatto però è stato importante perché se non ricordo male l'università ti ha permesso di incontrare uno dei tuoi primi maestri si professore paolo verzone col quale andai in anatolia nella magna grecia eccetera per fare rilievi fotografie è stato molto molto scavi archeologici se non sbaglio sembro distratta ma non lo so soprattutto nella zona bassa della vicina denis lì a pamuccalè un posto meraviglioso dove l'elouch girò tutta una vita dopodiché dopo che frequentato l'università decisi di partire militare perché all'epoca c'era l'obbligo e quasi senza dire nulla ai miei genitori arrivai al punto di dire domani vado parto militare per fortuna riuscì a entrare nel tra gli allievi ufficiali tra gli alpini e mi portai da osta la prima macchina fotografica una laica che mi regalò mio padre con un paio di obiettivi chiedevo sempre al comandante di turno il mio capitano se potevo fare delle fotografie qua e là e nella giberna porta munizione del fucile garand io mettevo la laica e l'obiettivo dall'altra parte cominciai a fare alcune delle fotografie e poi andai avanti anche nei punti su in alta montagna altissima montagna sempre con la mia laica a documentare la vita dell'alpino dal primo giorno in caserma fino al congedo finito il servizio di leva mi fece richiamare ancora due volte per portare a termine tutta questa storia perché mi mancavano sia delle fotografie del campo invernale che del campo estivo mi richiamarono poi con queste fotografie stampate mi recai presso vari giornali per cercare di venderle premetto che con grandissima immodestia però vent'anni si poteva sognare era quello nel mio futuro di potere essere assunto da epoca che era la rivista più importante d'italia che era in società diciamo con stern life pari c'è per certi servizi fotografici quindi il mio sogno era a 35 anni andare a epoca poi a 50 anni ovviamente andare andare alla magnum che era la più grande agenzia fotogiornalistica tutt'oggi del mondo bene io iniziai tra le varie varie redazioni andai anche a domenica del corriere da quegli elmo zucconi che mi compro parecchie fotografie perché c'è poi un inserto particolare sulla leva ecco io ti interroppo solo un secondo per dire queste immagini che tu io ho avuto il piacere di vedere documentano anche una gioventù che non c'è più perché comunque si vedono questi volti d'altri tempi questi ragazzi diciottenni quasi ragazzini rispetto al diciottenne di oggi e poi guardando le vedremo alla fine quando avremo qualche scatto sembra di essere di tornare indietro almeno di cento e forse più anni anche se sono passati diciamo soltanto 55 60 anni di ogni modo tornando ai viaggi diciamo che mi facevo tra torino milano bologna eccetera dei vari editori andai da tenni per quasi per ultima epoca mi presentai da epoca le fotografie le vide la segretaria del direttore all'epoca nando san pietro uno dei grandi direttori che contribuirono successo di epoca e la segretaria disse teniamo quale fotografie perché il direttore occupato le farò vedere dopo qualche settimana io telefonai dicendo ma io ho bisogno di queste fotografie erano le uniche che avevo che mi ero stampato io stesso e disse più di una volta no direttore meglio che le veda le veda un giorno mi telefonò e disse il direttore la vuol vedere io ho preso il mio treno il treno giacca e cravatta perché io arrivavo dal liceo valsalice quindi eravamo abituati ad andare a scuola fare il liceo con la giacca e la cravatta e sovente anche col gilet e mi presentai direttore mi ricevete subito e mi feci complimenti per le fotografie dice lei da domani è assunto lei va con l'ivio caputo e copre le americhe l'asia lei come fotografo e lui come giornalista io disse ci penso ma come ci penso e dice mi disse qua vengono dei giovani che sarebbero disposti a pagare pur di essere pur di lavorare per per noi io non mi sentivo assolutamente sicuro perché non avevo mai studiato fotografia non ho mai andato da scuola mai fatto l'assistente a nessuno e le fotografie degli alpini le ho fatte con il cuore con tanti errori logicamente perché erano pressoché le primissime fotografie che facevo torna il giorno dopo dicendo ovviamente non dormi tutta la notte dicendo no grazie perché io sono un capricorno come ci siamo detti o sono sicuro o quasi sicuro altrimenti la grandezza sta anche nel capire quali sono i propri limiti e se è il momento giusto lui ha detto si ricordi che lei diventa il fotografo più giovane in assoluto del di questo consorzio stern life pari match epoca mario de viasi venne poi due due volte a torino per sollecitare e questo che tornassi indietro come decisione invece io rimasi fermo dopo quattro anni circa casualmente comprai una rivista era fotografare e c'erano una decina di pagine all'interno di questa rivista che parlavano della rivista epoca quindi intervistarono i vari personaggi redattori giornalisti fotografi intervistarono pure luccia ripani lanfranchi che era la segretaria del direttore e le chiesero qual è stata la cosa più folle della sua vita qua e raccontò l'episodio il ritaglio del giornale attaccato con una puntina di disegno alle spalle della mia scrivania però non mi pentì mai 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 perché poi incominciai a lavorare a torino per il gruppo fiat e gruppo fiat all'epoca era grandissima espansione ecco prima di avventurarci vorrei ricordare i nostri spettatori che le tue opere sono visibili anche in una mostra che è tuttora in corso fino a 22 dicembre alla galleria berman di torino quindi inviarci vescovado chi volesse vedere queste opere che scorrono tra di noi può tranquillamente recarsi in galleria e ammirarle quindi insomma c'è anche questa contestualità fino al 22 dicembre per questo evento torinese molto importante una sera centrato in pieno centro quindi comodissimo le opere sono anche in vendita basta rivolgersi ovviamente alla galleria e il catalogo è curato da un grande che angelo mistrangelo critico della stampa che salutiamo con grande simpatia perché abbiamo già collaborato in diverse occasioni alpino pure lui alpino pure lui perché alpini si diventa ma poi non si smette mai di esserlo giusto non si dice mai ex alpino ecco l'esperienza fiat brevemente perché il tempo è tiranno perché poi voglio farti parlare anche della tua esperienza con i divi di quegli anni fiat all'epoca voleva dire piemonte voleva dire italia ma il fiat produceva oltre che le automobili produceva motori marini quindi fotografato navi voleva dire treni macchine movimenti a terra trattori aerei motori per aereo di tutto di più faceva quindi c'era bisogno sempre di documentazione dobbiamo ricordare che all'epoca c'era la pellicola che io ho sempre definito come la spietata nel senso che tu dovevi dare la diapositiva perfetta cioè non c'era photoshop se c'era una mosca sul cofano della della macchina non potevi toglierla cioè dovevi rifatto però facciamo morire un po di invidia chi ci ascolta tu eri praticamente il fotografo senza limiti di spesa esattamente all'epoca nella pubblicità aveva un budget altissimo inimmaginabile oggi come oggi cose e quindi girando anche il mondo alla ricerca di qual era lo scenario migliore cui inserire il prodotto esattamente si sovente chiamavano di fotografie dalla california dall'australia per provare appunto nuovi punti di vista per le automobili e poi scelte azzardate perché io ricordo un tir nero su fondo nero sì feci pratica questi teatri di pose immensi della fiat che poi sono passati euphon e il teatro di pose più grande era 33 x 33 alto 14 ci stavano anche due camion con rimorchio e il compito che mi si dava cioè si fotografavano sia delle bielle che dei dei bulloni e si fotografavano dei cruscotti delle macchine intero quindi c'è stata un'esperienza completa di questi oggetti lucidi e particolarmente difficili in italia eravamo pochissimi fotografi di automobili 45 non di più quindi si lavorava costantemente c'era tantissimo lavoro perché c'erano sempre modelli poi fiat era lancia alfa romeo e poi ho lavorato tantissimi anni per piena in farina per 15 anni per ferrari e maserati un po per giugiaro è stato molto un po per ron royce bentley e su ferrari torneremo perché ci sarà una sezione apposta parlaci degli dell'incontro con i divi in questo mondo degli anni 60 quelli che hai conosciuto quelli che hai fotografato quelli che ti sono rimasti più impressi sia nel bene che nel male nel bene nel bene dai sì sono stato assunto per sei mesi da un'agenzia di milano dovevo seguire servizi fotografi con un giornalista fare riprese ai cantanti e non solo ai cantanti quindi ho fotografato più di una volta mina ha fatto celentano bobbi solo e poi siamo andati anche in altre direzioni carla fracci no reif mai buongiorno è stato molto 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 interessante fare questi servizi fotografi avevo 25 anni 25 anni e mezzo poco prima di cominciare a lavorare per la fiat finito il servizio militare ho fatto anche questo è stata un'esperienza unica ecco io tiro sempre un po il freno a mano perché ho paura di non riuscire a dire tutto quello che vogliamo raccontare i soggetti li vedete sono soprattutto ispirati al mondo della natura c'è un soggetto in particolare che non è il mondo della natura ma lo affrontiamo tra pochi minuti ci tengo a ricordare che potete rivedere le foto in mostra alla galleria berman con catalogo di angelo mistrangelo fino al 22 dicembre tra questi ci sono degli elementi particolari che ricorrono sono le nuvole le ombre e i giochi di luce infatti la mostra si chiama la luce tra cielo e terra devo ringraziare non è piageria la fiat perché mi ha insegnato a fare come si solleva dire la luce cioè creare in ambienti giganteschi la luce quindi possedere il contrasto che la cosa più importante tu vedi un oggetto per una persona una qualsiasi cosa per il contrasto chiaro scuro quindi da lì sono partito poi a fare anche altre cose anche per l'illuminazione delle persone illuminazione di altri oggetti per arredamento e poi per la natura e mi sono ritrovato quasi vent'anni fa ad abitare non lontano da asti e mi sono accorto del monferrato e della stesana delle langhe quando si partiva per servizi fotografici per conto della fiat si andava sempre in toscana in umbria si andava soprattutto in sardegna perché d'inverno potevi circolare tranquillamente senza trovare una macchina per le strade pieno inverno io parlo appunto di 30 40 anni fa mi sono accorto dell'esistenza della meraviglia del monferrato della stesana e delle langhe incredibile quindi è da 15 anni circa a questa parte che le mie nikon vanno a fotografare paesaggi e paesaggi che sono veramente incredibili non sono prezzalato da nessuna le frequentazioni le frequentazioni fotografiche in particolare e qui vengo all'elemento che non è natura ma qualcosa di molto più strano la bolla del lingotto io tutta la vita sono andato non per quanto riguarda il lavoro vero e proprio a sindrome di standale quindi io vedevo un qualcosa lavoravo e la seguivo questa cosa fotograficamente parlando non una volta due volte tre volte 10 20 50 100 volte tornavo sullo stesso posto la scelta avveniva più che altro per soggetti come poteva essere una pianta la bolla del lingotto un monumento o una chiesetta l'amore italiana che fossero un po sopraelevati in modo tale che si potesse girare attorno a 360 gradi perché se tu devi fotografare una chiesetta in fondo valle incassata fai due fotografie non puoi fare di più puoi fare con la neve la puoi fare con sole di notte ma non di più quindi per quanto riguarda per esempio il monumento che ho fotografato in piazza castello sono andato 50 60 volte soltanto per quanto riguarda un albero di albero un albero che è cresciuto sull'altro anche lì saranno andato forse cento volte e per quanto riguarda la bolla poco meno forse 60 volte perché la bolla del lingotto di renzopiano è posizionato in un punto strategico se visto se è vista dalla parte del parcheggio verso la ferrovia se tu passi da via nizza assolutamente non la noti la questa bolla una bolla veramente avveneristica perché io l'ho vista come un'astronave quindi sono andato tante tante volte soprattutto utilizzando la luce del mattino il controluce e contro cosa vuol dire mattino d'estate volevo dire svegliarsi verso le 5 5 metri essere l'alba ma mia moglie mi diceva sempre ma chi te lo fa fare andare a fotografare la bolla e mi piace e andavo sempre con la mia cagnetta che mi seguiva dappertutto la cagnetta rail chiamata così perché l'abbiamo trovata sotto a un guardrail però questo viaggio questa bolla ti ha portato con sé e ti ha portato in un viaggio dall'altra parte del mondo una notte dopo che ho terminato dico ho detto basta non fotografo più la bolla mi dedico a cos'altro vado su internet e c'era un concorso fotografico di architettura nel mondo cui hanno partecipato più di 500 tra fotografi architetti ingegneri eccetera e ho vinto il primo premio primo premio che consisteva questo nel 2009 in viaggio per due persone a tokyo per una decina di giorni in un albergo e dico almeno da otto stelle l'ultimo piano di un grattacielo una cosa meravigliosa allora l'ho detto a mia moglie detto guarda tu sicuramente non vieni prendo vado con la cagnetta tu rimani a casa perché tu non me l'hai accompagnata poi mi ha fatto pena non me la sono portata un gesto di generosità dai anche perché tua moglie ti segue veramente anche quando fai le mostre quindi una presenza importante sì grazie a lei anche perché mi ha fatto a conoscere il monferrato la stesana e le langhe ecco adesso io prima di dare vicino che uno non ci va poi prima di dare spazio poi all'approfondimento vado a mettere direttamente il dito nella piaga tu hai un amore odio per qualcosa di cui oggi non possiamo più fare a meno il digitale digitale ho capito nel 2003 2004 che era impossibile tornare indietro quindi mi sono prostituito al digitale però tratto il digitale come se fosse ancora la pellicola cioè lo scatto deve essere buono almeno al 90 per cento cosa vuol dire vuol dire che fai delle attese aspetti e se non è quel giorno è un altro giorno e torni perché l'intervento post produzione che adesso va per la maggiore perché tanti fotografi lo utilizzano al 90 per cento poi tra l'altro non sarei capaci poi sarebbe contro di me e l'ho accettato con tre obiettivi tre zoom e due macchine fotografiche io riesco diciamo a fare quello che desidero il lavoro è logicamente è diminuito rispetto a una volta più che altro mi dedico alle fotografie dei paesaggi e di architettura nel piemonte ecco io amo molto il tuo stile a parte la neve perché chi mi conosce sa che io sono una drogata di neve ma ecco ma amo molto i giochi con le ombre queste nuvole quanto quanto influisce la scelta di un buon gioco di nuvole quando fai questo scatto perché sono veramente delle regie quasi concordate con la natura le tue concordate anche con col servizio meteo il meteo certo prima di muovermi e la sera prima io guardo il meteo e soprattutto guardo il vento guardo il vento poi meteo sat guarda il movimento delle nuvole e cerco di capire se il giorno dopo è valido o non è valido e soprattutto dove andare perché il sopralluogo è importantissimo sapere dove andare secondo la stagione secondo la luce questo è molto molto importante e poi approfitto delle nuvole sparse quando c'è scritto nuvole sparse è quello che fa per me per la mia macchina fotografica quindi ci sono giochi di luce di chiaro scuro e quindi il terreno soprattutto degli ampi spazi viene leopardato a molta più profondità una tridimensionalità veramente eccezionale quasi teatrale si si approfitto di questo ricordiamo ancora che sei in mostra la galleria berman fino al 22 dicembre catalogo di angelo mistrangelo ringraziamo e salutiamo anche giuliana godio e barbara beretta perché sono le padrone di casa in questo caso e ti preghiamo di guidarci in questa carrellata di immagini che durerà circa una decina di minuti quindi vorrei approfittarne per poi chiudere insieme a te e fare ultime considerazioni se la nostra regia è pronta io inizierei a far vedere queste foto di approfondimento questa è una fotografia che feci del 1993 per la legna sono andato giù in somalia per documentare l'operatività della del g222 che la migliore macchina al mondo del suo genere qua siamo sul deserto del sara e situazioni di pericolo ne hai mai vissute ma abbastanza adesso parlo di questo perché io la gente vede queste fotografie dice ma tu dove eri ecco io ero su un altro aereo e su un altro aereo e sei tu questo questo se ero su un gi 91 perché io ho volato moltissimo e complimenti da parte di tutte le nostre aspettatrici donne 30 anni avevo tanti capelli si faceva la visita medica milano come i piloti perché le sollecitazioni erano le stesse si andava in volo su un altro velivolo per poter fotografare ma si concertava a terra tutto quanto questo con 1200 mm no possiamo ingrandire un istante per favore questa fotografia fatta a pratica di mare dalla spiaggia la prima sera le radio non funzionavano più di tanto perché c'erano interferenze la seconda sera non c'è stato un tramonto perché non è casuale ragazzi 1.200 mm vuol dire che un angolo quasi di due gradi forse meno e poi la terza sera siamo riusciti a fare questa fotografia qua vedete si capisce dove siamo non è fotomontaggio non è photoshop e negli anni 80 si volava più basso siamo passati tra le piramidi perché all'epoca si poteva si poteva fare di tutto questo si può ingrandire per favore un momento questo è un backstage teatro di posa qui potete immaginare la grandezza la grandiosità di questi teatri incredibili ogni volta che si faceva una fotografia si doveva verniciare per terra si impiegava circa un giorno per fare una fotografia questo lo scontorno per poter aggiungere il bianco perché era all'inizio del photoshop quindi si potevano fare certe cose più di un giorno guardate questo anche se si può un po ingrandire si appendeva la macchina per vedere per fotografare il fondo piatto della ferrari quindi è davvero appesa appesa si poi con photoshop si toglievano le catene guardate la proporzione immensi teatri molto bella anche questa idea di portarci il backstage grazie enzis ea lo scontorno si continuava poi con il bianco attorno si portava il bianco per la vettura si metteva il nero per far riflettere il nero sulla vettura per avere la saturazione del colore rosso questa con delle luci particolari tutto su pellicola quello che avete visto adesso di ferrari perché siamo prima del digitale giugiaro eravamo bardonecchia in esterno quindi l'organizzazione è importantissima portare col camion le vetture qua parliamo se si può ingrandire il bialbero il bialbero ce ne sono alcuni nella zona di asti e langhe e un ciliegio che è cresciuto su un gelso e l'ho seguito per parecchi anni io mi recavo la al mattino anche prestissimo messo una luce dietro al tronco per avere questo effetto di controluce questo è il bialbero di giorno di giorno si fiorito il gelso già fiorito mentre il gelso il ciliegio già fiorito mentre il gelso questo incontroluce col sole perfettamente dietro col vento ogni situazione era un'occasione per fare una fotografia anche con le auto fai un po così cerchi il particolare c'è il monviso dietro vedete con la tormenta quindi oggetti cose sopra elevate per poter girare attorno con la mia cagnetta rail col cappottino rosso vedete che mi seguiva è felice che mi seguiva dappertutto dappertutto giorno e notte un tramonto sulle alpi questa è una parte piccola parte delle fotografie che ho fatto queste questo bialbero un altro discorso vite notturne non pensate infatti quando mi hai detto vite notturne ho pensato che ci portassi qualcosa di strano in effetti qualcosa di strano grazie al copy giorgio larocca vite notturne sono fotografie fatte in vigna queste qual prime con un panno nero dietro è solo un led alimentato da una batteria di automobili quasi tutte in controluce con un minimo intervento di photoshop minimo per togliere in questo caso il filo di nylon che teneva queste foglie sembrano quasi gioielli quasi gioielli sì sono fotografie che sono preparate gli acini sono lavati lucidati per togliere la pruina o la polvere si può ingrandire questo non sono non sono biglie neanche palloni da mare e uva sono acili sembrano veramente biglie di vetro si chiama si chiama bizzarria variegata ah va bene incredibile ecco ma come ti viene l'idea di cogliere quel particolare sono innamorato sei innamorato dell'uva farlo a luce questo grappolo di grignolino anche se io decontestualizzo questo l'ho intitolato vespertilio il latino è pipistrello sembra che abbia gli occhietti e le ali vedete è vero questo è un vitticcio secco che ho fotografato sempre con lo sfondo nero photoshop è soltanto la sfumatura che ho dato nella parte bassa per non avere il taglio netto questo è un altro gruppo di sembra sembra d'oro tutte incontroluce tutte con la luce attraverso un altro discorso gli alpini quelli di cui parlavamo prima quelli che ci sono nel cuore perché comunque tu sei un alpino ancora adesso sempre partecipo ai raduni vado nella mostra che ho fatto poi con 170 fotografie ho portato già in 33 posti diversi si può ingrandire questa per favore questo è il parroco il il cappellano militare che va in benedizione in caserma e salta una pozzanghera dietro c'è il chirichetto diciamo in divisa in divisa sì questi sono il trasporto da mortaio si porta da 120 38 kg sulle spalle mani in tasca e via così facevano sul ghiacciaio eravamo sull'ortles sullo zebru il capitano in testa e le squadre dietro questa è fatta d'estate con la neve la disperazione del viso che si legge nel viso di questo ragazzo si dormiva in sei in quelle tende in sei in sei e questo si faceva la barba con l'acqua messa nella gavetta l'acqua presa dalla neve la neve sciolta si qua venivano giù questo aveva più di 40 kg sulle spalle e si butta si appoggia sulla piccozza per non dare il giro per spostare il baricentro questa è una fotografia si può ingrandire è fatta da terra al lancio dei paracarutisti all'alpe di Siusi era stato appena sganciato lasciato da un altro C119 col tre l'obiettivo sembrano sulla stessa linea e questa è un'altra fotografia gli alpini che andavano a sistemare delle sagome per sparare e questa è l'ultima le addunate ci sono due amici da sempre la sinistra ha messo la carta del pane sicuramente sotto il sedere altrimenti si macchiava i pantaloni il fiasco di vino con la paglia ancora eravamo alla spezia a fine anni sessanta e quindi siamo con i tuoi grandi amici e quattro zampe sono cani metropolitani no che ho abbordato ai giardini coinvolto anche i padroni e abbiamo fatto queste fotografie tutte quante da terra per slanciare il cane e sullo sfondo ci sono i posti punti più diciamo turistici più importanti della città di Torino forti grand'angoli quindi per avere una assoluta messa a fuoco qua siamo a palazzo reale con photoshop ho spostato soltanto la bandiera che gli spuntava solo dalla testa quindi penso che sia un peccato veniale qua siamo un piazza castello via po e poi ecco il cane è proprio l'animale che tiene il cuore qua sempre da terra come vedete bianco nero e grigio tutto intonato anche il cane anche il dalmata certamente l'ho fatta apposta questa è appunto con la mano italiana e ho messo il cagnetto con i padroni logicamente presenti su un tavolino da picchino per slanciarlo per poter avere questa prospettiva e si può ingrandire questa è l'ultima credo e Fabio il nome di questo levrier afghano che ho fotografato che hai capelli come i miei al vento in questo caso al vento e il mio sogno forse te lo raccontavo prima sarebbe che venissero usate queste fotografie o anche altre di altri con il testimonial per la città di Torino per la promozione della città sarebbe una cosa penso lanciamo questo appello chissà che non venga accolto ti faccio chiudere con una nota avventurosa intanto voglio ricordare ai nostri telespettatori che è possibile venire in trasmissione a raccontare le proprie iniziative editoriali letterarie o di altro tipo scrivendo a Deborah Bocchiardo chiocciola gmail.com oggi come vi ricordo parliamo di Enzo Isaia della sua carriera della mostra la luce tra cielo e terra che è alla galleria Berman fino al 22 dicembre a Torino chiudiamo con una nota avventurosa dicevo ti sei mai trovato in situazione di pericolo ovviamente senza dirci né cliente né luogo per motivi evidenti di privacy mi è successo alcune volte anche se purtroppo non ho viaggiato molto come hanno fatto la maggior parte dei miei colleghi fotografi una volta si è spento il motore dell'elicottero siamo venuti giù per fortuna per l'abilità del pilota con l'autorotazione ci siamo salvati un'altra volta eravamo in zona terra del fuoco si è rotto il vetro del Bac-11 un aereo di linea a 9000 metri potete immaginare un'altra volta vengo contattato da una da un'azienda per documentare un lancio di un prototipo di un lanciatore si chiama anche un lanciatore un razzo vettore tipo la Rian ripeto il prototipo quindi fatti i sopralluoghi sul posto questo poligono era alto più di 15 metri quindi 5 piani forse di più si doveva alzare in volo girare andare sul mare e precipitare questo era il NOTAM per questo primissimo lancio io mi sono sistemato con le mie macchine fotografiche sulla colline a quasi due chilometri di distanza e c'era questa scena meravigliosa di questo razzo è stato anche fotograficamente parlando molto interessante il fatto che solo in quel distante è andato via e quindi si è vista questa fiammata incredibile con il mio 500 millimetri mi sono messo lì l'ho fatto le 36 pose no? fin quando è scomparso dall'inquadratura anziché sentire il rumore del motore che diminuisse perché si allontanava quello aumentava allora ho tolto l'occhio del mirino e questa razza ha tirato ho visto che tirava dritto verso di me ha sbagliato di 180 gradi e direi bella scoperta questo a 100 metri di quota neanche la mia fortuna per cui sono qui è che hanno tagliato motori hanno fatto esplodere no? sopra la mia testa quindi tutti i pezzi sono caduti attorno a me erano pezzi di lamiera con il combustibile solido come fosse quello diciamo dei fuochi artificiali che era infuocato come toccava terra faceva una fiammata tipo napalm mi è andata bene che quello più vicino era stato è venuto giù a 15 metri circa di distanza io non sapevo dove andare perché non c'è nessuna protezione e sto anche fortunato che era piovuto la sera prima quindi tutti i cespugli la macchia mediterranea era bassa non ha preso fuoco e mi sono salvato mi sono salvato e mi è andata benissimo dopo due mesi o tre mesi mi ritrovo in Somalia dovevo documentare il G222 e l'operatività e come entro in un accampamento di militari mi sento chiamare Enzo, Isaia, Isaia ecco il miracolato il miracolato erano degli inservienti che sapevano di me e che avevano assistito a quanto mi era successo bene il tempo è tiranno noi siamo arrivati purtroppo al termine dei minuti a nostra disposizione ricordo a tutti che la nostra intervista oltre ad andare in onda sul sito di informazione e obiettivo news verrà diffusa sui social e poi anche su YouTube quindi è un'opportunità per farsi conoscere anche fuori da tutti i confini perché internet non conosce più limiti di territorio quindi o di nazione quindi è un modo per avere una vetrina quanto mai estesa ringraziamo tantissimo Enzo Isaia per essere venuto essere venuto qua da noi a raccontare la sua carriera le sue esperienze le sue fotografie vi ricordo la mostra la luce tra cielo e terra catalogo di Angelo Mistrangelo presso la galleria Berman di Torino in via Cifescovado 9 fino al 22 dicembre andate a vederla perché è veramente un evento irripetibile ringrazio tutti voi che ci avete seguito ringrazio tantissimo la nostra regia Andrea Solavagione che oggi ha veramente fatto i salti mortali per stare dietro a me e a Enzo Isaia perché l'abbiamo monopolizzato per avere il montaggio delle immagini quanto più completo e vario possibile vi do appuntamento alle prossime puntate di Quarta di Copertina sempre qui su Obiettivo News e arrivederci a tutti e buon proseguimento di giornata a tutti e buon proseguimento di giornata e buon proseguimento di giornata